8 punti in 6 partite, poco spettacolo ma tanta concretezza. Questo è il mood del solo fra 2017 e 2018 di Mr. Messina, una squadra quadrata che sa vincere e convincere senza strafare. Unico club in eccellenza insieme alla Virtus Avellino ad aver vinto, perso e pareggiato due partite, con una media gol non altissima, soltanto 7 delle reti messe a segno, ma con una delle miglior difese del campionato con soli 6 gol al passivo. Rispetto allo scorso anno non è cambiato nulla, i punti in classifica sono gli stessi, il trend, i risultati anche, l'unica cosa a cambiare sono gli obiettivi. Se lo scorso anno in tabella di marcia c'era una salvezza tranquilla, quest'anno ci si aspetta qualcosa in più, che rispetto alla scorsa stagione la squadra è cambiata e sembra presentarsi più matura e soprattutto perché la linea offensiva affidata dal bomber Banzano è di spessore e quando viene chiamata in causa non fa mai mancare il proprio apporto alla squadra. Di sicuro la salvezza risulta a portata di mano, il dubbio sovviene sull'obiettivo playoff, ma il campionato è ancora lungo e soprattutto, rispetto allo scorso anno si mostra molto più equilibrato.